Ciao ragazze, ciao ragazze, allora oggi è il 3 marzo, vi presento l'album 4 di Yves Rocher che appunto inizia oggi, 3 marzo e termina il 23 marzo come vedete dalla copertina ci sono un pochettino di, diciamo, anteprime quindi potete capire un po' cosa c'è quindi da qui potete un po' intravedere cosa ci sarà ci saranno gli sconti del 40% come vedete qua c'è un po' di curiosità, super super felice allora, sconti del 40% innanzitutto come sconti del 40% abbiamo della linea idravegetal quindi per chi ha la pelle da normale a mista potete prendervi il gel fresco idratante antifatica a 6,95 oppure a 7,95, quindi con lo sconto del 38 la crema già l'idratazione non stop 48 oppure la crema ricca idratazione per chi ha la pelle comunque secca poi della linea sebo vegetal quindi per chi ha comunque la pelle grassa e mista ci sono in offerta lsos anti imperfezioni che questo in pratica si applica dove vedete imperfezioni quindi che ne so, sulle puntine sui brufoletti per evitare comunque la comparsa dei segni contiene anche acido salicinico ed ha un costo di 7,95 poi sempre allo stesso prezzo abbiamo i trattamenti idratanti anti imperfezioni questo in pratica è un 4 in 1 perché minimizza i brufoli, i punti neri riduce la dimensione dei pori, attenua il rossore e opacizza la pelle per 8 ore io questo non l'ho mai preso però vediamo, visto che ci sono gli sconti non lo so se lo prenderò poi abbiamo gel crema a 0 difetti 7,95 che è la crema poi ancora col 40% abbiamo la crema leggera lenitiva della linea sense di camomilla 8,95 poi i super sconti per quanto riguarda la linea pure mint praticamente ho acquistato un detergente e il secondo lo pagate al 50% quindi che ne so per esempio il gel detergente purificante 3,98 euro oppure il detergente scrub antipunti neri 3,1 euro 4,98 euro l'acqua micela e strutturante purificante 4,48 euro cioè vi sto dicendo i secondi prezzi capite? quindi i secondi prezzi quelli già scontati al 50% vale a dire per esempio vi ho acquistato un acquamicellare struccante 2,1 giusto a 6,95 e poi scegliete uno dei prodotti in rosso che vi vengono praticamente niente acquamicellare struccante 2,1 4,48 euro gel detergente ultra freschezza 3,98 e così via anche qui per quanto riguarda sia la linea Pur Camille ma anche la Pur Calendula quindi per le pelli mature e anche per la Pur Camille alla Camomilla Bio c'è anche lo stesso fatto che è il secondo l'ho acquistata al 50% poi nella linea Pur Bluette che è quella linea che è per occhi sensibili abbiamo il contorno occhi idratanti e antiborse a 9,95 euro anche lui diciamo prezzo speciale poi abbiamo sette occhi bifasico due da 100 ml l'uno a 4,95 euro poi abbiamo questo che è lo struccante delicato occhi sensibili due sempre da 100 ml 4,95 euro io quindi non so se io poi lo prenderò questo perché sono curiosa non l'ho mai provato a dirvi la verità poi abbiamo anche della linea Pur Bluette l'acqua floreale dentiva di fior d'aliso 150 ml che lenisce e rinfresca gli occhi stanchi la texture nebulizzata rinfresca riaviva lo sguardo affaticato interessante questa non lo so ma la vorrei prendere anche se non mi piacciono molto i prodotti spray però vabbè questo ha un costo di 4,95 vabbè è super è super scontato poi abbiamo invece della linea anti-età una novità per quanto riguarda la linea anti-age global in pratica c'è il correttore anti-macchie giorno dopo giorno l'intensità delle macchie si riduce dopo un mese dopo un mese la pelle è come rinnovata 14 ml corregge tutti i segni dell'età contiene ovviamente la nuova formula prezioso nett reagisce nel cuore delle cellule cutane per una straordinarazione di rinnovamento già dopo 72 ore poi abbiamo oltre il 35% di sconto la crema anti-età comfort notte 24,95€ e questo è il 30% il concentrato bifatico rigenerante da notte 29,95€ poi abbiamo vabbè due prodotti già li sappiamo quali sono questi nuovi poi abbiamo della linea rich cream l'antirughe benefica da notte 17,95€ poi abbiamo serum vegetal per quanto riguarda la linea rimpolpante 14,95€ abbiamo il trattamento rimpolpante da notte oddio ho sempre difficoltà a tenere il cellulare mamma mia allora poi abbiamo praticamente il trattamento fortificante da notte che è della linea lifting vegetal 19,95€ poi elisir botanic botanic prodotto anche sconto sleeping care 17,95€ che è una crema per la notte poi per quanto riguarda invece il make up quindi il maquillage abbiamo degli sconti acquisto un fondotinta e la terra l'ha pagata al 50% quindi praticamente acquistando qualsiasi fondotinta da qua potete avere la terra al 50% infatti vi faccio vedere i fondotinta che potete acquistare la terra costerà appunto 9,95€ la terra bronzante allora abbiamo il fondotinta perfezionante tenuta e idratazione 24 ore 17,95€ poi abbiamo il fondo tintopacizzante riduttore tipori poi vabbè qua abbiamo i correttori il blush poi abbiamo qua super quindi abbiamo con l'acquisto praticamente del mascara intense metamorso volume lunghezza e curvatura e praticamente si sono aggiunte le altre due nuove tonalità cioè quella marrone quella blu quindi se acquistate il mascara 16,95€ potete avere la paletta allo sconto del 50% esattamente avete capito benissimo quindi potete avere la paletta ombretto con dei nuovi colori o questa su nude oppure questa più colorata ma anche il quad che lo potete pagare 9,98€ e poi abbiamo con lo sconto del 40% gli ombretti lunga tenuta 7,95€ questi sono veramente buoni come prodotti durano tanto soprattutto chi fa palestra chi suda molto poi abbiamo con lo sconto del 40% invece i gloss balsamo 5,95€ che sono arricchiti con olio di cilieggia qualcosa che a me non piacciono molto i gloss mamma mia cioè questo telefono è grandissimo poi sconti del 40% per quanto riguarda Evidence il profumo è un parfum comune Evidence 29,95€ Naturel 19,95€ poi abbiamo in super sconto anche questo da uomo il Boy de Soage 24,95€ 100 ml poi viso e corpo sempre uomo gel detergente corpo e capelli più la crema anti inquinamento più la pochettina potete avere sia questa fragranza oppure l'Ambro Noir che è pure bella 27,95€ poi un altro set uomo viso e corpo per quanto riguarda schiuma da barba shampoo micellare detox anti inquinamento e lo shampoo Doge Olive Petite Grain 12,95€ poi abbiamo dei trattamenti sempre al 40% di sconto anticellulite 11,95€ quindi questo idratante quotidiano e il sierosnellente rassodante 14,95€ poi abbiamo ancora sconti per quanto riguarda il corpo abbiamo il latte nutriente intenso per pelli secche e molto secche 8,95€ da 390ml oppure quello l'aloe vera quindi idratante 9,95€ sempre da 390ml e poi abbiamo il latte idratante rassodante 6,95€ 200ml oddio santo poi abbiamo altri prodotti vabbè che non sto qui un po' parlare perché tanto non sono in sconto questi invece sì abbiamo tutti i balsami appunto per i capelli a 3,95€ poi abbiamo il trattamento fruttificante anticaduta a 9,95€ il compresso delle fialette a 14,95€ infatti come vedete i balsami sono a 3,95€ per capelli ricci anche per capelli colorati oppure linea brilliance poi abbiamo i sciampi solidi a 7,95€ mentre la scatolina a 3,95€ sono curiosa di provare questi sciampetti poi abbiamo super promo delle acque spray profumate per corpo e capelli a 5,95€ ci sono tutte le fragranze tranne quelle tre capite quali quelle che sono tipo edizione limitata peccato e poi ci sono sapone e crema mani a solo 2,50€ quindi potete scegliere quelle che volete crema e mani sapone e mani a 2,50€ super promo mentre dietro ultima pagina i gloss cioè proprio gloss sono gli emoli antilabbra o i golosi o i colorati a soli 1,95€ quindi spero che questo catalogo vi sia piaciuto a me sì ci sono degli sconti così però vale la pena comunque vi saluto e al prossimo video ciao